Progetto Rinascita Centro Italia, nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino centrale interessato dal Sisma del 2016. Non soltanto un volume di carta edizioni, ma una vera e propria ricerca scientifica curata da Massimo Sargolini, Valentina Polce e Flavio Stimilli, che è ufficialmente il primo prodotto di un protocollo d'intesa siglato da Redi, un consorzio di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e dal Dipartimento Casitalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un protocollo che ha proprio come obiettivo quello di sviluppare studi e ricerche, nel caso studio specifico del Centro Italia, anche al fine di offrire consulenza e supporto ai decisori politici. L'Italia è un paese fragile, ci sono stati tanti terremoti, di cui la necessità di un codice unico della ricostruzione, il cui terra va avanti come spiega il capodipartimento di Casitalia. Il codice della ricostruzione nasce da un'idea appunto di Fabrizio Curcio, di Giovanni Legnini e mia, a cui abbiamo lavorato attivamente, proprio per cercare di stabilire delle regole che vadano bene per ciascun sisma, perché oggi abbiamo tantissimi modelli, il modello Aquila, il modello Emilia, il modello Centro Italia, ognuna con differenti governance, con differenti poteri di ordinanza, con differenti norme procedurali anche a livello di indennizi. Speriamo già di portarlo la prossima settimana o al massimo entro dieci giorni in Consiglio dei Ministri per la professione definitiva e poi, diciamo, seguirà l'iter parlamentare. Che significa questo? Che il test è un test aperto. Massimo Sargolini è il coordinatore scientifico della ricerca. Dai dati emergono le situazioni già note di spopolamento in alcune zone, ma anche dei modelli positivi che possono essere presi da esempio. Importante è il ruolo di simbola, eppure del Gran Sasso Science Institute, che fa parte del consorzio e che ha curato la parte economica. Il dato, diciamo, più eclatante è il fatto che siamo in un sistema di regioni, ci sono quattro regioni, Marchi, Abruzio, Lazio e Umbria, dove ci sono dei trend che si equivalgono e vanno tutti in una direzione, che è quella che conosciamo, dell'impoverimento, del degrado crescente dal punto di vista socio-economico, quindi del depoperamento demografico, e dove c'è comunque un'azione di movimento, la nascita di alcune forme di sviluppo, di nuovi sentieri, di nuove organizzazioni che nascono dalle comunità. Se noi andiamo a vedere il complesso delle misure, delle strategie, degli orientamenti che sono presenti nel piano nazionale complementare e che quindi informeranno concretamente i bandi che da giugno in poi saranno emanati per poi essere chiusi entro novembre, bene, se noi andiamo a vedere, questi si ispirano molto, molto alle strategie, alle visioni, agli orientamenti che sono presenti in questa ricerca, progetto Rinascita Centro Italia. Poi abbiamo anche identificato dei gruppi di territori colpiti dal sisma che avevano caratteristiche simili e abbiamo anche poi identificato quelli che abbiamo definito con una parola inglese hotspot, cioè i comuni che sono più a rischio perché hanno una forte vulnerabilità insieme anche a una bassa resilienza economica.